Le immagini che vedete vi giungono dal centro sportivo di Visoliano, altopiano carsico, un pugno di chilometri da Trieste, Friuli, Venezia e Giulia. Per la tredicesima giornata, l'ultima del girone di andata, si affrontano le squadre primavera della Triestina e del Chievo-Verona. La palla dentro ancora per Danzo, da parte di Cisotti il controllo sbagliato, attenzione il sinistro tentato da Miraglia. C'era sulla traiettoria Coletta, 12.40 al nostro cronometro. La battuta del corner, ancora uscire cercando Tonani, attenzione la palla che resta lì. Koulibaly va ad alzare con il destro, appoggio per Gallo, il cambio di campo di Gallo, vediamo Kirilov sulla sinistra, c'è McCormack, Kirilov può mettere giù. Vediamo se converge, cerca il destro, il destro che parte, palla alta di non molto. Dialogano corto comunque i giocatori in maglia rossa, il cross di Cisotti è molto buono, attenzione, Principalli mette giù, c'è il spazio per il sinistro. Coletta, fischio dell'arbitro, c'è la finta, parte Manfrin, Arquato, attenzione, e c'è il gol di Manfrin. Chievo in vantaggio, siamo stati buoni i profeti perché avevamo detto che Manfrin aveva un sinistro potenzialmente letale. Attenzione a Manfrin che ha una buona battuta in profondità, va a pescare Kirilov, bellissima questa palla. Attenzione, uno contro uno con Diaz, Kirilov, spazio per il destro, ribattuta. Ecco che parte la battuta, Arquata, attenzione, miracolo di Franceschin, pallone sulla riga di porta. Poi cerca la battuta, Tonani, subito murato, è buona la posizione di Dien Gowe, attenzione la sponda dentro, Kirilov batte i ribatti, confusione incredibile. Orientato Dien Gowe da questa finta, pericolo per la retroguardia giallo-blu. Ora Principalli dentro, attenzione a questa palla, bravissimo Gallo. E la palla è dentro, attenzione per Tonani, Tonani contro Ferrato, sono in due, allarga molto bene per Barrichello. Il destro di Barrichello, la giocata con l'esterno destro di Barrichello. Rientra la formazione alla bardata, controllo, attenzione, la giocata dentro per Pedrocchi. Pedrocchi cerca il destro, Pedrocchi, palla alta, più basso. Gallo a fare da raddoppio su tutti i palloni gestiti dalla Triestina e Burato, magari ad inventare qualcosa. Adesso c'è l'errore, attenzione, favorisce il Chievo, la botta, stupenda di Barrichello, che traversa. Seguiamo però la punizione, sono in quattro in barriera, c'è proprio anche Said, ne è entrato, si aggiunge adesso un quinto. Parte Basolo, attenzione, Pedrocchi in profondità, attenzione perché è regolarissimo Tonani. Vediamo che la controlla bene Tonani, resiste Tonani e c'è il 2-0 di Tonani. E possiamo dire finalmente che il Chievo mette la pietra sulla partita quando manca un quarto d'ora. Ancora qui Basolo, cambia con precisione per Cisotti, contro Fodor. Cisotti è un buon primo passo, attenzione, cerca di andare dentro Villanovic, Cisotti! E c'è il 2-1 della Triestina, attenzione signori perché non è finita qui la partita. Chievo che ha trovato il 2-0, si sblaccia, mister Nicolato adesso che sicuramente è inviperito con la sua elettroguardia. Molto statica in questo caso, un compagno in profondità. Può partire Gallo a velocità incredibile, va a puntare due giocatori. Attenzione, Gallo è la destra di Gallo, la palla fuori. Riesce a controllare e arriva, quindi il recupero era stato di tre minuti. Dopo tre minuti e spiccioli arriva il fischio finale del direttore di gara, del signor Bindoni di Venezia. Chievo che quindi, dopo la sconfitta in chiusura di 2010 contro il Milan tra le Muramiche, riesce a ritornare al successo.